C'eravamo poi lasciati, non ricordo come fu, ma una sera ci incontrammo per fatale combinazione, perché insieme riparanno per la pioggia in un portone. Elegante nel suo velo, con un bianco cappellino, dolci gli occhi suoi di cielo, sempre mesto in suo viso. E lei a che pensava? E io pensavo ad un giorno lontano. A qualche luogo, a qualche stanza. A una stanzetta all'ultimo piano. Ma quando che succedeva? Quando d'inverno al mio corpo si stringiva. Come pioveva, come pioveva, come pioveva. Se permette l'accompagno, lei dica grazie e non ti disturba. Grazie e non ti disturba. Grazie.